Ciao a tutte! Oggi tutorial veloce e molto semplice per mostrarvi come ho realizzato questa nail art. Come sfondo ho utilizzato questo bellissimo smalto della Catrice che è un duochrome, quindi il suo colore vira da un viola molto intenso a questo bellissimo color verde acqua. Ve lo faccio vedere ovviamente anche nel tutorial e nell'info box vi scrivo il suo nome. Fatemi sapere cosa ne pensate, vi lascio al tutorial. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!